Vaccini delle due luna in Gran Bretagna cominciano a vaccinare settimana prossima. Ci dicevano che l'uscita dall'Europa dalla Gran Bretagna avrebbe portato alla rovina quel paese. Partono due mesi prima di noi a vaccinare i loro cittadini. Quindi o hanno qualcosa di sbagliato a Londra o non funziona qualcosa a noi. Abbiamo letto che però l'Agenzia Europea del Farmaco ha convocato una riunione di urgenza per entrare nel merito dei vaccini. Badate bene, oggi è il 2 dicembre, la riunione di urgenza a Bruxelles è stata convocata per il 29 dicembre. C'è un concetto di urgenza che sul pianeta Terra è diverso rispetto al pianeta Europa. Quindi, signor Ministro, mettiamoci d'accordo, in Turchia partono settimana prossima e questo è il massimo col vaccino che arriva dalla Cina. Dovremo prima o poi portare anche in quest'Aula un momento di chiarezza perché non è possibile che il paese che ha contagiato il resto del mondo poi faccia business curando il mondo che ha contagiato. E qualcuno dovrà dare delle spiegazioni su quello che non è stato fatto a Pecchino. Quindi, o il vaccino della Pfizer funziona a Londra e non funziona a Roma oppure se funziona a Londra non si capisce perché comincino prima là che non a casa nostra.